6 personaggi in cerca d'autore e il dramma più famoso di Luigi Pirandello, rappresentato per la prima volta nel 1921. Messo in scena da Luca De Fusco, apre il 25 ottobre la stagione 2017-2018 del Teatro Mercadante e resterà in scena fino a domenica 12 novembre. Con questo spettacolo Luca De Fusco mette in scena la massima riflessione sulla natura stessa del teatro, nella drammaturgia del Novecento. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. È un classico e forse il testo più importante scritto nel Novecento e quindi quando lo si mette in scena bisogna farlo avendo un'idea che sottoline degli aspetti nuovi. Noi abbiamo sviluppato quello del rapporto tra teatro e cinema e la natura innovativa del testo che in quel momento sfondava le barriere tra teatro e cinema appunto, ma se i personaggi si fa quando si hanno dei grandi attori e noi abbiamo un formidabile padre Nero Spagni che spero valga la serata. Il nostro pubblico ha dimostrato di avere fiducia e affetto direi noi.